buongiorno oggi voglio parlarvi di questo libro gulag di applebaum questo un libro che io ho amato molto perché avevo comprato appena uscito nel 2003 e poi nel 2004 ha vinto il premio pulitzer ed è un libro che veramente mi ha aperto gli occhi su un angolo su una frazione della vastissima produzione letteraria russa che è proprio dedicata all'argomento dei gulag e cosa sono i gulag? i gulag probabilmente li conoscerete tutti erano i campi di concentramento che i sovietici usavano per internare i loro i criminali criminali però divisi in due diciamo fazioni criminali comuni che coinvolgevano ovviamente gente che aveva commesso dei crimini e molto spesso anche i mafiosi russi e poi i criminali politici quelli che diciamo secondo un'accusa piuttosto generale veniva generica venivano chiamati i criminali quelli che avevano compiuto dei crimini per attività contro rivoluzionaria cioè contro i dettami della rivoluzione che aveva liberato la russia dal regime zarista ora i gulag erano nati proprio sotto regime zarista però hanno visto la loro massima espansione sotto stalin quindi alla fine degli anni 20 stalin è stato salito al potere nel 1924 e poi li ha usati veramente per attaccare e diciamo liberarsi dai dagli oppositori da quelli che considerava oppositori perché poi il gulag è stato un universo ampissimo noi pensiamo solo che probabilmente sono passati intorno ai 18 20 milioni di persone per i gulag e a regime contenevano più di due milioni e mezzo di persone quindi possiamo immaginare la vastezza e anche l'organizzazione di questo sistema non a caso uno dei maggiori autori che ha parlato dell'universo gulag solcenizzi ha scritto un libro che si chiamava proprio un archipelago gulag e all'inizio dicevo proprio di questa differenziazione tra criminali comuni e politici perché perché i gulag all'inizio riservavano un trattamento peggiore le autorità carcerali dei gulag riservavano un trattamento peggiore ai criminali politici ai criminali comuni e invece un trattamento leggermente migliore per quanto si può definire migliore ai criminali politici poi invece hanno scoperto che i criminali comuni potevano essere usati per umiliare ulteriormente i criminali politici che invece erano quelli che veramente davano fastidio alle autorità dell'unione sovietica soprattutto a stalin e quindi si è creato quasi una sorta di connubio una sorta di patto tra le autorità carcerarie e i criminali comuni per schiacciare ulteriormente per rendere più difficili le condizioni di vita dei criminali politici ma cos'erano i criminali politici criminali politici ovviamente erano quelli che venivano per delle soffiate venivano accusati di attività contro rivoluzionaria quindi quelli che non avevano contro l'attività diciamo che aveva portato alla rivoluzione diciamo in maniera piuttosto generica ma chiunque poteva essere accusato di questi crimini e la cosa incredibile Applebaum lo descrive molto bene diciamo nella parte del libro riservata proprio alla a come funzionava che uno veniva arrestato di notte veniva portato alla Lubianca a prigione a Mosca veniva lasciato lì per giorni e giorni al freddo poi subiva un processo molto sommario veniva accusato gli si davano 10 20 5 anni ma in generale multipli di 10 per attività contro rivoluzionaria contro l'unione sovietica e poi venivano spediti in condizioni veramente disumane su questi carri merci in siberia in questi posti lontanissimi e moltissimi ovviamente morivano durante il viaggio per il freddo per gli stenti e e poi lì ovviamente venivano assegnati a diversi campi e ovviamente c'era il freddo c'erano le condizioni di lavoro c'erano le autorità carcerarie che schiacciavano i detenuti e Applebaum diciamo attinge le sue informazioni da una vastissima letteratura io voglio citarvene soltanto alcuni ovviamente c'è Solzhenitsyn che è il più conosciuto aveva scritto nel 1962 questo libro un giorno nella vita di Ivan Denisovich che racconta un giorno nella vita di un carcerato di uno zesto che erano come l'hanno definiti i carcerati nei Gulag ma poi ha scritto anche Arcipelago Gulag e dopo vi citerò un evento di questo libro molto interessante e poi il mio preferito c'è Salamov con i racconti della Colima è veramente un libro interessante e non voglio neanche dimenticare un autore che negli anni 40 ha avuto un grandissimo successo con il suo libro Buio a mezzogiorno in cui Kostler in cui raccontava Arthur Kostler in cui raccontava il processo a un ex diciamo gerarca un ex capo del politburo dell'unione sovietica che poi era caduto in rovina stavamo parlando di Murakin che fondamentalmente viene accusato di attività contro rivoluzionaria e poi viene giustiziato e questo libro diciamo aveva scatenato una sorta di discussione perché Kostler ai tempi viveva a Parigi e era membro diciamo di quella che viene chiamata comunemente Riv-Gauch in caso vi suggerisco di leggere questo libro che parla proprio della Riv-Gauch con lui era amico di Sartre, di Simone de Beauvoir, di Camus quindi c'era tutto questo intreccio di anche intenzioni politiche perché ovviamente tutte queste persone erano orientate a sinistra invece Kostler era particolarmente critico contro il regime sovietico e allora non si sapeva ancora cosa fossero i Gulag quindi diciamo è molto interessante anche come aggancio ma torniamo ai Gulag, i Gulag hanno visto la loro maggiore espansione intorno alla metà degli anni 30, 36, 37 in cui c'erano state le cosiddette purghe a quel tempo Stalin era diciamo che probabilmente soffriva di paranoia aveva veramente premuto sull'acceleratore aveva veramente mandato milioni di persone nei campi di concentramento e non dobbiamo pensare solo ai gulag come un luogo determinato gerarchizzato e fisso i Gulag erano veramente una ragnatela sì c'era un'organizzazione statale molto centralizzata ma in ogni campo ovviamente ogni campo faceva storia a sé c'era la corruzione e inoltre c'era anche uno scambio perché alla fine molte persone che facevano i carcerieri poi a volte nel corso della loro vita si erano trovati a dover essere carcerati e viceversa e soprattutto poi pensiamo anche ai capi dei gulag viene in mente beria che a loro volta furono vittime della ma anche sottoposti non solo all'apice della della piramide dell'autorità ma che a loro volta subirono la paranoia di Stalin furono vittime loro stessi della struttura che avevano creato ho contribuito comunque a creare io ovviamente non posso affrontare nella piena interezza questo argomento voglio solo citare che dopo la morte di Stalin nel 1953 c'è stato diciamo tutti hanno tirato un grosso sospiro di sollievo i detenuti ovviamente ma anche quelli che rischiavano di entrare nell'universo gulag e a poco a poco le maglie dei gulag si sono allentati prima con Khrushchev che ha cominciato a diciamo diminuire il flusso di persone nei gulag e poi e poi anche a rivelare alcune delle verità riferenti ai gulag e poi ovviamente con Gorbachev che negli anni 80 li ha definitivamente chiusi ecco e il ovviamente la storia dell'unione sovietica non ha non è stata affrontata in maniera molto molto trasparente come in tante altre situazioni riguardanti altri stati questo ovviamente non è un unicum dell'unione sovietica e Ann Eppelbaum che è una studiosa molto molto attenta della che anche lei collabora anche col Washington Post adesso vive in Polonia col marito diciamo si è espressa in questo senso nel senso che la Russia poi non ha mai affrontato questo argomento in maniera molto molto chiaro comunque io voglio chiudere il mio argomento la mia argomentazione con degli episodi che sono veramente degli spunti dai dei libri che ho letto e uno si richiama a un libro di sol cenizzi nell'arcipelago gulag che inizia proprio con una storia incredibile con questi prigionieri che stanno scavando stanno scavando a 12 metri di profondità nel ghiaccio nella siberia nel permafrost e trovano delle carcasse di animali e secondo largo il racconto di sol cenizzi questi questi carcerati prendono gli animali e li mangiano poi però in qualche modo riescono a recuperare non non li finiscono completamente e queste carcasse arrivano al campo dove li mettono in mano al geologo del campo che li poi ne manda sono tre carcasse ne manda due a san pietroburgo e uno in una museo locale e fondamentalmente viene fuori che queste carcasse di animali sono degli scoiattoli mummificati conservati benissimo nel permafrost viene fatta l'analisi del dna e poi viene pubblicato anche un articolo su nature e questa storia poi ha degli sviluppi molto interessanti perché poi diversi studiosi li analizzano e dicono ma è difficile che questi carcerati li abbiano mangiati così sul posto perché mummificati sono duri come il legno però è anche difficile immaginarsi le condizioni di vita di queste persone e comunque veramente è un racconto che dà l'idea della situazione in cui si venivano a trovare questi carcerati un altro racconto fa parte dei racconti della colima di salio di salamo e salamo è veramente duro veramente spietato e racconta in maniera molto molto cruda molti eventi ci sono per esempio queste persone che vengono mandate queste buche nel permafrost e rimangono lì con la testa con solo la testa che esce se uno anzi sotto la testa e se uno tira fuori la testa c'è una guardia che sta lì aspettare gli spalle rimane spalle rimangono lì anche giorni e salamo curiosamente oltre a raccontare anche magari eventi in cui ci sono episodi di monta di generosità di umanità diciamo racconta anche degli episodi che coinvolgono gli animali e questi episodi vogliono essere da un lato una metafora in cui si trovano si vengono a trovare i carcerati e le persone che vengono sottoposte a questo a questo trattamento e da un lato vogliono essere anche un richiamo all'umanità c'è un episodio molto molto toccante di questa donna la incinta e di questo geologo che la prende di mira e dimostra tutta la propria crudeltà verso questo animale ed è veramente una scena che in qualche misura vuole dare veramente il senso dell'umanità spezzata di questo mondo. E il terzo episodio che vi voglio raccontare è quello che riguarda la costruzione del canale del Volga che collega il fiume di Mosca al Volga che è un canale di ben 128 chilometri che è stato costruito tra 32 e 39 e veramente è stato costruito con il sangue e le mani di 200 mila carcerati voi potete solo immaginare queste persone che hanno costruito questo canale che poi serviva ed è servito anche durante la seconda guerra mondiale come collegamento e come per l'apporto di acqua però è stato costruito con mezzi veramente primitivi con delle pare con dei picconi e poi non è mai neanche riuscito ad arrivare a quello che era il progetto iniziale per la mancanza di fondamentalmente di materiale e anche di tempo perché poi è scoppiata la seconda guerra mondiale. Ovviamente io vi lascio ad approfondire questo argomento in caso non l'abbiate fatto di leggere uno qualunque di questi libri perché sono veramente delle pietre miliari della letteratura. Voglio solo ricordare che Solzhenitsyn ha preso il premio Nobel per questo libro anche se Ann Eppelbaum non è particolarmente tenera con lui in qualche misura lo accusa di non essere stato proprio uno zest magari per i periodi ma di essere stato quasi un collaborazionista insomma velatamente lancia delle accuse a Solzhenitsyn comunque niente può andare contro la il valore letterario del suo libro di un giorno nella vita di Ivan Denisovich e anche di Narcipera VULAG. Io vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e alla prossima.